È una ricorrenza storica e la Santa Barbara è la protettrice dei minatori, oltre che di altre categorie naturalmente, perché questi manovravano degli esplosivi per cui la Santa Barbara è riconosciuta in tutto il mondo come quella che tutela e salvaguarda la salute di questa gente. Minatori sono un po' in via di estinzione, purtroppo ne abbiamo persi sei anche quest'anno scorso dalla nostra realtà della Val del Riso e Val Serina. Li ricordiamo sempre con la Santa Messa e l'abbiamo continuata a celebrare nel villaggio minerario di Campello di Gorno alle 10.30 del 4 dicembre, proprio per questo, e poi ci troviamo su al Quattro Cimi di Zambla Alta per festeggiare quelli che ci sono e per ricordare ulteriormente, oltre che nella parte spirituale della Santa Messa, anche con un incontro con i parenti di questi. Quindi è una ricorrenza dove tutti i parenti dei minatori vengono con orgoglio a ricordare questo momento dei loro avi. Noi ci teniamo e continuiamo come amici di Santa Barbara a riproporre questo. Invitiamo un po' di autorità perché ci sono alcuni problemi che sarebbe troppo lungo discutere e interpretare in questa occasione, però sicuramente quello è un appuntamento sul quale noi ci teniamo proprio per il fatto che la miniera, adesso poi il villaggio minerario di Campello, in base a una norma nazionale, diventerà essendo proprietà dello Stato, come si diceva, diventerà realtà proprietà dei comuni, limitrofi, quindi è un momento storico in pratica. Lì si può sicuramente ricostruire una parte della storia che è stata cancellata. Quindi gli amici minatori della Val del Riso, sabato 4 dicembre, si ritrovano le 10.45 presso la Contrada, Campello per queste celebrazioni. Ricordiamo tutti i minatori che devono portare il casco e la lampada ad acetilena. Sì, questa è la nostra divisa, chi non l'ha è proprio o non è un minatore, questo naturalmente noi estendiamo l'invito anche agli amici dello stabilimento di Ponte Nossa, stabilimento elettrolitico che era in simbiosi con le miniere perché se non c'era la trasformazione dei minerali in metallo ovviamente si chiudeva tutto. E quindi anche gli amici della Ponte Nossa SPA che lavorano ancora, quelli che c'erano prima sono invitati perché in quella occasione ci ristringiamo ancora la mano e idealmente anche gli amici che sono scomparsi.